Estra vuole dare un messaggio di solidità, di continuità e di vicinanza alla nostra clientela, assicurandogli che possono confidare su un player come il nostro che continuerà a rappresentare un servizio di prossimità e di vicinanza. Quindi bene dare un occhio al mercato ma guardiamo alle società territoriali che non fanno il contratto e scappano ma che se contattate ci sono ci saranno sempre. Il mercato tutelato del gas è arrivato ormai al capolinea. Arera ha stabilito la fine del servizio dall'inizio del nuovo anno, il 2024. Un momento complicato, importante, in una fase cruciale della questione energetica. Abbiamo passato un periodo molto difficile, molto duro, anche come aziende che nel caso di Estra hanno anche ammortizzato la crisi e la speculazione energetica. Questo passaggio è un passaggio fondamentale che dovrebbe andare ulteriormente incontro come mercato libero dell'energia alla cittadinanza, alla clientela. Estra continuerà a fornire clienti attualmente nel mercato di tutela gas secondo le modalità previste da Arera e senza necessità di alcuna azione da parte dei clienti che riceveranno tutte le informazioni utili attraverso l'invio di comunicazioni scritte che perverranno entro il mese di settembre. Quindi il cliente a 3112 ha due possibilità nel mercato di maggior tutela. La prima è rimanere comunque sia in un mercato che è ibrido in qualche maniera, che è di transizione tra la maggior tutela e il mercato libero, quindi un mercato cosiddetto placet. La seconda opportunità è quella di passare, ma come poteva fare in precedenza, a un'offerta del mercato libero, di Estra e di altri fornitori, chiaramente. Quello che sarà fondamentale è una suddivisione del mercato, quindi la Arera ha tutelato i clienti vulnerabili, quindi quelli che hanno determinate caratteristiche sopra i 75 anni o un reddito ISEE particolarmente basso, che finiranno in automatico in un mercato di vulnerabilità, si chiama. Quindi è una continuità del mercato di maggior tutela per quelle categorie particolari che sono quindi tutelate da parte della Arera. Estra ricorda infine che non chiamerà i suoi clienti per gestire la fine del mercato di tutela, anzi chiede loro di prestare molta attenzione ad eventuali tentativi di truffe telefoniche.